un messaggio finale per i tifosi intanto volevo fare gli auguri a voi tutti tutti i giornalisti ai tifosi a tutte le persone anche che non tifono che non tifono Savona perché di passare un bel Natale perché poi Natale è la festa che avvicina di più le famiglie che avvicina anche le persone che non si vogliono bere quindi un augurio di buon Natale e un felice anno nuovo a noi sotto sotto l'albero vorremmo qualche giocatorino importante